Stabile al ribasso la curva dei nuovi casi in Puglia che nelle ultime 24 ore ha fatto registrare 3101 contagi a fronte di poco più di 20.000 tamponi. Scendono anche gli attualmente positivi grazie al forte rialzo dei guariti, mentre i ricoveri sono ancora in aumento. Sullo sfondo il dato dei decessi che continua ad aggravarsi con altri 10 morti a causa del virus. E questa la fotografia sull'andamento della pandemia in Puglia e sempre la provincia di Bari a far registrare più casi giornalieri. 1179 segue Lecce con 574, 487 nel Tarantino, 334 nel Foggiano, 321 in provincia di Brindisi e chiude l'elenco ancora una volta alla BAT con 170 nuovi contagi in 24 ore. Il totale dei casi d'inizio pandemia sale a 1.079.385, mentre il conto delle vittime del virus in due anni sale a 8.319. Recovery in rialzo ed in particolare nei reparti covid non critici della regione con il dato che sale a 545 pazienti, stabili a 25 le terapie intensive occupate, bene sul fronte degli attualmente positivi, tornati sotto quota 100.000 e che oggi si attestano a 98.484. Un dato reso possibile dal nuovo boom di guariti giornalieri. Secondo i dati del bollettino di oggi infatti si sono aggiunti altri 5.000 negativizzati per un totale che sale a 972.582.